Una situazione complessa, quella della residenza La Fontanina di Soleto, nella quale si corre il pericolo che l'azienda, in questo caso l'atundo, si disimpegni e che si vada addirittura verso la chiusura della struttura. I lavoratori rivendicano il diritto al lavoro, fatto sempre con costanza e dedizione nonostante le accuse, nonostante alcune definizioni lontane da ciò che è sempre stata l'etica professionale dal primo all'ultimo giorno. Non è stato il Covid, dicono a gran voce i lavoratori, a segnare l'inizio di tutto, ma la disorganizzazione di un sistema nuovo a quella realtà che stava mettendo in ginocchio il mondo intero. Le sigle sindacali di CGL Funzione Pubblica e di Cobas Pubblico Impiego con i lavoratori hanno effettuato un sit-in davanti alla struttura per manifestare le proprie ragioni e non è escluso che il prossimo passo possa essere proprio quello di recarsi direttamente a Bari, davanti alla sede della regione.